Il ristorante L'Elefante Baia Flaminia, cucina indiana e sri lanchese, vi invita nella nuova location di Baia Flaminia con ampio spazio interno ed esterno. Potrete degustare i veri piatti della tradizione cucinati dal nostro chef indiano. Vieni a nome di Rossini TV, per te uno sconto di 5 euro. Grazie a tutti.